Le prime vere tre pezzi da pesca, concepite per sfruttare al meglio sia il ground che i classici side above, una linea di canne rivolta alla ricerca della massima distanza. La nascita del progetto Dynamis deriva dall'esigenza di trovare il perfetto connubio di azione che permettesse un caricamento rapido e potente sia con lanci stile ground che i tradizionali lanci da pesca. Con questa logica, dopo una meticolosa ricerca ed attenta collaborazione con esperti di lanciatori di long casting, abbiamo ottenuto in questo modello risultati inaspettati. La linea Dynamis si sviluppa al momento con due modelli. La FSH, con vetta sensibile, match, è una canna potente e idonea per tutti i tipi di lancio, ground compreso fine a 150 grammi oppure side nel range 100-175 grammi. La sua caratteristica è la grande versatilità di uso, sensibilità in punta e potenza al calcio. La OTG, off the ground, presenta un'azione innovativa che pur non disdegnando altri tipi di lanci è rivolta al ground, con il quale si esprime al meglio con i piumi nel range tra i 120 e i 170 grammi, come hanno dimostrato gli ottimi risultati ottenuti anche in ambito long casting, mentre con lanci side o d'above la versione OTG può essere impiegata con un range 140-250 grammi. Con la OTG sfruttata in lanci da pedana si può supporre qualche metro in più rispetto al modello FSH, ma con lanci tradizionali, tali risultati si potrebbero invertire. La FSH quindi è decisamente più versatile e è rivolta alla pesca anche grazie alla maggiore sensibilità, pur conservando quasi inalterate performance di distanza. Entrambi i modelli sono realizzati in carbonio alto modulo ed altri materiali, in tre sezioni leggermente asimmetriche, con lunghezze determinate da scelte ben precise che portano ad esprimere al meglio tutta la loro notevole potenza. Il modello OTG ha una lunghezza di 4,38 m totali, mentre la FSH è lunga 4,50 m. Innesti stabili e sicuri con l'esclusivo sistema Italcanna a connicità inversa, a garanzia di numerevoli cambi. Portamulinello Fuji, anelli Italcanna fissati al blank con l'esclusivo sistema doppia forza, l'impugnatura in neoprene, terminale e verniciatura soft touch per migliorare la presa sulla mano sinistra, mentre è stato usato una vernice antigrip sugli innesti per facilitare lo smontaggio degli elementi anche a mani bagnate. Azione 0,91 per il modello OTG ed azione 0,75 per la versione FSH.